Come è nata questa passione, la passione per il calcio? Soprattutto ti sei ispirato a qualcuno? Inizialmente non ero ispirato a qualcuno, tutto è partito da mio padre. Siccome è un tifoso sfegatato dell'Avellino, ogni domenica mi portava a vedere le partite allo stadio. Al termine delle partite tornavo a casa e la prima cosa che mi veniva in mente era il pallone. Anziché guardare i cortoni animati come la maggior parte dei bambini, aspettavo tipo un novantesimo minuto, tutte le trasmissioni che parlavano di calcio. Su Ciro Guedero, attaccante ora dell'Atletic Grottonella, si potrebbe scrivere un libro. La sua odissea calcistica incomincia già da bambino tra le scuole calcio, US Avellino, Altavilla, Massavellino e infine Giovanili del Benevento, dove sarà solo di passaggio dato che in seguito passerà gli allievi nazionali dell'US Avellino per poi ritrovarsi in primavera. Mi allenavo spesso con la prima squadra e diciamo poco con la prima era. La maggior parte delle volte scendevo solo il sabato quando andavamo a giocare, dato che durante la settimana ero convocato in prima squadra con loro. Dopo l'ultima amichevole che andai a fare con la prima squadra a Sarno, il 9 luglio 2008, firmai 5 anni di contratto con l'Avellino, retrocessa in Serie C. Dopo tre giorni ebbi la notizia che l'Avellino era fallita. Sinceramente mi crollò il mondo addosso, anche perché avevo fatto un sacco di sacrifici per arrivare lì. Però dopo un mese ebbi la chiamata da parte della nuova società, sempre dell'Avellino, in Serie D. Avevo preso a male la notizia del fallimento dell'Avellino e quindi la mia carriera, il mio sogno di giocare nell'Avellino era svanito. Infatti rifiutai quella proposta a malincuore e approdai all'Olimpia agnonese, sempre in Serie D. Dopo il mio no, all'epoca il direttore Dionisio acquistò le prestazioni di D'Angelo e sì, può darsi che al posto del capitano ci sarei stato io. Dopo la spiacevole parentesi in bianco-verde, ricomincia la sua odissea. Real Nocera, Ferrini, Mezzocorona e infine Trento in eccellenza, per poi ritornare dove tutto è iniziato. È stata una scelta di cuore. Le offerte erano davvero allettanti, anche perché rifiutare una squadra di Serie D oggi e ritornare a calcare quei campi è stato davvero difficile. Grazie. Grazie. Grazie.